Ciao, creatura. Io sono Eccati Splendenti e benvenuta, bentornata, nel regno di Lusai e S.M.A. Ciao, questa sera vorrei raccontarti i video da cui torno, perché c'è chi ha bisogno di vedere sempre video nuovi e c'è chi come me ha bisogno nei momenti che proprio uno riesce ad rilassarsi completamente, ad addormentarsi. Torno da video che ho visto e rivisto e rivisto e rivisto. Mettimi un like se anche tu hai quel video o quei video dove torni a rivedere anche se sai tutta memoria. Io ne ho abbastanza, alcuni purtroppo non esistono più perché quei canali sono stati chiusi e mi dispiace un sacco, però pazienza, insomma. Sono video molto vecchi e anche molto recenti in base a se mi è piaciuto. È tutto qua. La maggior parte sono video vecchi, di canali che magari non fanno neanche più video ASMR. Allora, me li sono scritti perché spesso mi dimentico quello che stavo dicendo perché mi vengono in mente altre cose da dire e per non dimenticarmi nulla. Le ho scritti. Allora, c'è questo canale che ha cambiato nome. Sì, spesso ho seguito canali che poi hanno cambiato il nome e si sono evoluti con il nome. Allora, questo si chiamava ASMR Makeup & Beauty ma adesso si chiama ASMR Makeup & Paper con la I quella commerciale. Quindi si le c'è hand, credo. Allora, premettendo che di quel canale mi piacciono quasi tutti i video, beh come per tanti altri canali, però principalmente quelli sono molto 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 soboriferi. È un peccato che non faccia più video. È anche un peccato che non fosse tanto famoso. È come per quando i miei, i miei creatori mi dicono che non capisco perché tu abbia così pochi follower. È la stessa cosa che io penso quando vedo quel canale e altri, ma soprattutto quel canale. perché se vi piacciono i suoni principalmente della carta, giustamente ASMR Makeup & Paper per una ragione era Makeup & Beauty e poi è diventato Makeup & Paper. C'è un motivo, ecco. Sto notando con questa luce che i miei occhiali sono iper mega sporchi. Vabbè. Allora, ho, diciamo, i miei tre video preferiti che so a memoria e che mi triggerano sempre, ogni volta che li guardo. Allora, uno è... Sono in ordine sparso. Anche i canali non c'è un ordine in cui ne parlo che questo è più bello piuttosto dell'altro. Accarezzando la stoffa. Vi parlo un po' di me. E c'è lei che accarezza questa tovaglia viola con le sue unghie viola. E lei piace viola, sì. Perché so che aveva un canale non ASMR dove si chiamava Dove c'è viola C'è... C'è Martino, è un altro nome E adesso si chiama Dove c'è colore E vede che non è più così... Obsessed with purple Obsessed Più... ASMR di... Ossessionata Obsessed Ma sì, ASMR a colore E poi... Un altro bellissimo Lei faceva... Tutte queste... Creazioni... Ehm... Con... La pasta Tipo... Una specie di... Pasta Di fimo Non era fimo Erano quelle che... Morbide Che si asciugano all'aria E... Faceva tutti questi pasticcini E... Questi oggettini... Super... Kawaii Da mettere anche... Sulle matite Molto... Era molto... Molto... Incentrata Con... La... Cartoleria Quelle che adesso si chiamano Le cartopazze Pazze... 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 E... Aveva creato... Questo roleplay... Dove... Vendeva... Questi pasticcini... Fatti... Con queste... Con questa pasta... Puffa... Non so come si chiami... Una specie di clay... Colorata... E... Sofficiosa... E lei... Aveva fatto questo video... Che si intitola... Roleplay... Packery Shop... Whisper in Ita... E appunto... Vende queste... Queste creazioni... E... Vengendo... Che siano... Pasticcini veri... Super rilassanti... Super rilassanti... E... E... Poi... Ha... Un altro... Che mi è piaciuto... Mi piace un sacco... Soprattutto... Metterlo... In sottofondo... Finché... Magari... Sto... Facendo... Qualche lavoro... Con... Il computer... O... Se sto facendo anche... Qualcos'altro... Ehm... Però... Di... Magari... Colorando... O... Creando... Non scrivendo... Io... Non riuscirei... A studiare... O scrivere... Con... Delle voci... Italiane... O... Delle voci... Di persone... Che parlano... In sottofondo... Perché... Finirei... Per scrivere... Le cose... Che stanno dicendo... Ok... Quindi... Non riesco... Perdo... Velocemente... La concentrazione... E quindi... Ho bisogno di suoni... Però appunto... Se sto facendo qualcosa... Che non è... Scrivere... O leggere... E... Qualsiasi altra... Attività... Mi piace... Ehm... Avere... Qualcuno... In sottofondo... Che... Mi racconta... Qualcosa... In ASMR... E' super... Super... Rilassante... Super... Super... Triggeroso... Per me... Allora... Ehm... Ehm... Unghie... Sul puzzle... La casa al mare... E vi descrivo... Ciò che non vedete... E' il titolo... E... Praticamente... C'è... A tutto schermo... Visto dall'alto... Questo enorme puzzle... Dove lei... Fa scratching... Con le unghie... Ma... In un modo... Molto... Molto... Delicato... Ed è... Super... Super... Triggeroso... E lei... Descrive... Il puzzle... E soprattutto... Descrive... Il puzzle... Che non si vede... Nell'inquadratura... Quindi tu vai anche... A immaginazione... Cerchi di immaginare... Com'è... La parte... Di puzzle... Che non vedi... Quindi è bello... Mi piace... Come idea... E quelli... Sono... I... Video... Che ho... Visto di più... E che quando... So che ho bisogno... Vado a cercare... Poi... Eh... Di... Ex nome... Coco ASMR... Che ora si chiama... Only Red ASMR... Credo di aver visto... Mille volte... Infatti quel video ha tipo... Mille 600... L'ultima volta che l'ho visto io... Mille 600 visual... Quindi penso che... Mille siano tutte mie... Ehm... ASMR... Puoi farlo anche tu... Amici... Cucciolotti... E... Quello... Praticamente... C'è lei... Che... La nostra amica... Vanessa... È nostra... Perché... In un video... Molto recente... Si è presentata... Io non sapevo il suo nome... Io la seguo da tanto... Non ho mai chiesto... Cioè insomma... Ognuno è libero... Di essere... Anonimo... Su... Internet... Se lo desidera... Insomma... Non vado a fare... Queste domande personali... Ehm... Però adesso che l'ha reso pubblico... È la nostra amica... Vanessa... Bellissimo... Vanessa... Vanessa... Che... Che bel nome... Non conosco nessuno... A parte lei... Con questo nome... Ehm... Vabbè... È la nostra amica... Vanessa... Vanessa... Come l'ha detto lei... Troppo... ASMR... Oh no... Aspetta... Mi devo spostare un po' in qua... Ok... Perché sono sempre... Decentrata... Quando vado a editarmi... Mi dava... La nostra amica... Vanessa... Come ha detto lei... Con lei è un po' aperta... Così... Ehm... Ci mostra... Il suo... Nuovo... Album... Dei cucciolotti... Cucciolotti... E... Ci mostra anche le figurine... E ci parla del perché... A... A lei piace acquistare questo album... Che non è... Bambinesco... Alla fine perché... Si ti piacciono i cuccioli... Cioè... E poi... Ehm... Lo fa anche perché... I soldi vanno in beneficenza... Quindi... È... Dobbiamente rilassante... Infatti io poi gli avevo chiesto... Il video dove... Apre le figurine... E... E anche quello mi è piaciuto tanto... Ma... Il primo... Quello dove... Parla dell'album... È... È il mio preferito... Proprio io quel video lì... Lo... È... Un... Un comfort... Che c'è lei... Si vede solo la sua mano... E questa... Un pezzi di filba... Non lo so... Molto... Sembra molto morbida e calda... Ed è... Molto... Molto... Accogliente... Sembra di essere lì con lei... A guardare questo... Questo album... Delle figurine... Dei cucciolotti... Che... Quando ero piccola... Anche io... Ehm... Forse ho avuto l'album... Forse ho avuto qualcuno... Di amico... Che ce l'aveva... Non lo so... Cioè ho un ricordo... O da qualche parte... Avevo trovato delle figurine... A me comunque... Molto bello... Molto... Molto... Rilassante... E poi... Mi è piaciuto tantissimo... Quello anche... L'ho visto un po' di volte... Vi rilasso... Con le mie creazioni... Show and tell... Puntini... Puntini... Dopo... C'è scritto altro... Però... Basta scrivere queste cose... Si trova... E... Ci sono... Le sue creazioni... Ho fatto delle... Scatoline... Magchie... Pelle... Di legno... Poi c'è lei che... Ha un modo... Di muovere le mani... Che è veramente... Super delicata... Super carina... Mamma mia... Io vorrei troppo averla come amica... Anche lei... Sono... Spesso... Le persone che seguo... Le stimo tipo... E penso che bello... Mi piacerebbe essere amica... Di... Questa persona... E... Anche se... In realtà... Non so nulla... Vedo solo dei video... Però... Dal... Modo in cui... Si esprimono... E... Dai trigger... Che mi fanno... Provare... Penso che... Sarei a mio agio... Con... Questa persona... E quindi... Penso... Wow... Che bello... E... Vedere il video... E quando... Parlano così... Dicono... Ciao... In prima persona... E... Mi sento lì con loro... E... Mi sento... Bene... Ecco... E... Quindi... Anche quelle creazioni... Bellissime... Bellissime... C'ho anche le mie preferite... Ma... Non spoiler... Poi... Oasi Bianca ASMR... Che... Non ho più pubblicato video... E... Mi dispiace... Tantissimo... Speriamo... Speriamo... In un... Ritorno... E... Un video... Che... Sta... Raggiungendo... Quasi... Le mille... Visualizzazioni... Perché io... L'ho visto... Un sacco di volte... L'ho visto... Un botto di volte... So anche... I punti... Nel quale... Ci sono dei suoni... Per esempio... Allora... Il video... Si chiama... Biscotti... Facili... Veloci... Tra parentesi... Senza uova... C'è un vicino che sta... Battendo un chiodo alle sette del mattino... E volevo... Fare questo video... Parlando... Lentamente... Ma dopo... Mi viene da accelerare la voce... Il... Perché... Inizio a sentire tutti i suoni... Dico... No... Devo riuscire a finire il video... Prima che... Facciano... Si sveglino tutti... E facciano casino... Quindi... Per quello... Io vorrei farli... In modo rilassato... Parlando lentamente... Ma poi... Mi mettono l'ansia... Ok... Quindi qui vedrai un sacco di tagli... Perché... Non so se si sente... Poi... In questo video... C'è lei... Che... Fa dei... Semplicissimi... Biscotti... E' anche facile... Da ricordare... Come ricetta... Perché... A parte la farina... Tutti gli altri ingredienti... Sono 60 grammi... Quindi... E... Si sentono i suoni... Di lei che crea... Cioè... Si vedono questi biscotti... Fatti da lei a mano... Senza formine... Fate proprio rustici... Schiacciati così... Con le mani... Un impasto grezzo... E... Appunto... C'è una parte... In cui... Ci sono dei rumori... Un po'... Brutti... Guardi il sacchetto della farina... Che fa... Un rumore che non mi piace... Ma... La prima volta che lo vedi... Magari prendi un po' paura... Perché sei lì... Un po'... Abbioccato... Nel senso che... Ti stai rilassando... Le good vibes... Per... Farci una bella dormita... Ma... Sa che c'è quel suono... Un po' così... Ma... Oppure l'aspirapolvere... Ci mancava... Vabbè... Spero che non si senta... Comunque... Sei in quel... A quel momento dei trans... Così... Tra... Regno dei... Vivi... Quello dei morti... No scherzo... E... E... C'è quel suono lì... Un po' di... Destabilizza... Però... Io... Conoscendo il video... Memoria... So che c'è... Quindi non è che prendo paura... Il mio cervello dice... Ecco... È arrivato quel momento... Però è quel video... E non lo so... Perché nella sua... Semplicità è... Wow... Un sacco di trick... Poi... Quel canale che una volta si chiamava... Le note del silenzio... Adesso si chiama... Molto più... Semplicemente... Carlotta... Asmr... E... Perché... Chiara... Asmr... Fece... Tanto tempo fa... Un video dove diceva che... Ehm... Si... I verbi li metto a caso io... E... Questo video dove diceva che... Se volevi essere più famoso... Più... Ricordato... Più facile da ricordare il tuo canale... Era meglio avere un nome semplice... Tipo... Nome... Asmr... Come il suo... Non sono d'accordo... Però... Pare che funzioni... Perché... Ehm... Carlotta poi ha fatto tanti... Ehm... È diventata molto famosa... Ma... Non credo sia per il nome... Che sia solo per la sua bravura... Però... Vabbè... Anche perché mi chiamo Cosai... Cioè... Nome... Asmr... Ma sono rimasta sempre ferma lì... Vabbè... Comunque... Allora... Ehm... C'è un video... Vecchissimo... Che ha ancora la sigla... Con le note del silenzio... Quindi... Parliamo... Però è... Carlotta... Asmr... E è... Asmr... Ida... Super relax... Sussurri lenti... Ed è un... Ed è un semplice video... Anche lì sono tutti semplici quelli per secondo me... Ehm... Dove lei... Commenta... Quello che... Si sta vedendo nel video... Quindi lei ha fatto questo video... E poi probabilmente... In fase di editing... Ha montato... Ha commentato... Ha messo un audio... Un overlay... Un audio... Dove... Commenta... In modo... Pagato... Lindo... Tranquillo... Sto video... Semplicemente... Lei... Si mette un... Lo smalto... Lo smalto... Trasparente... E comunque... I video li ho... Belli... Wow... Bellissimo... Comunque poi... Tiena di un ASMR... Io torno ancora... Su suo canale... Ebbene... Si... E... Un po' tutti sono... Li sono un po' tutti a memoria... Anche perché è stata... La prima... Artista ASMR... Che ho... Conosciuto... E... Però... I miei due... Che mi... Triggerano... Di più... Di video... Sono... Parbiscio... Entella... Italiano... Tapping... Sussurrato... Soft Spooking... E lo so a memoria... C'è lei... Che mostra... Tutte queste Barbie... Vintage... Da collezione... E... Legge... Sia in italiano... Che nelle altre lingue... O meno... Per lo meno... Ci prova... Eh... Ci sono scritte in inglese... Ma lei... Te lo traduce... E... Bellissimo quel video... Eh... Io adoro quel video... È bellissimo... Anche lì... A volte ci sono dei suoni un po'... Ma... Mi ricordo i punti... Quindi... E... E... Quindi non prendo paura... Ed... Non è come... Vederlo... La prima volta... E poi... Mi piace tantissimo... Eh... Back... Massage... Non so come si pronuncia... Massaggio la schiena... Sarebbe... E... Regular Italian... Chit chat... Ehm... Soft... Soft spoken... Ehm... C'è lei che... Fa un massaggio... Alla schiena... Al cugino... Cuginetto... E chiacchierano... Poi c'è anche un pezzo finale... Dove... C'è lui... Ma è divertente... Perché... C'è tipo i bloopers... Un pezzo tagliato... Dove lui diceva... Ma se devo fare una scurettina... Posso farla? E... Perché praticamente... Lei voleva lasciare l'audio... Però... Lui... Ne parlano... E diceva... Beh... Se proprio... Tolgo l'audio... E faccio... Un overlay... Un audio... Da inserire... In un secondo momento... Ecco... E... Quindi è bello... Perché stai lì... E loro chiacchierano... Di... 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 Masterchef... Di cose del genere... E... Di cose loro... Insomma... Chiacchiere che faresti così... Con... Tuo parente... O un amico... Insomma... Così... Non di filosofia... Ecco... Così... Easy... E quindi... Ehm... Poi... Fa questo massaggio che dico... Porca miseria... Vuole essere io... Fa... Cioè... Fare questo massaggio... Però ovviamente non sono io... E... Purtroppo... E quindi è... Tutto... Proprio l'atmosfera... E i movimenti... E' tutto molto molto rilassante... Io torno... Io l'ho proprio visto anche quello... Un po' di volte... Vabbè... Poi... Ehm... Di... Click My World... Che... Anche lei... Mette... Ogni... Tanto... Proprio così... Random... Dei video... Non è proprio un canale... Abbandonato... Ecco... Ho visto dei video... Bastante recenti... E... Mi piace un sacco... E' il mio preferito... ASMR... Eating Pizza... Eating Sounds... Eat... Whispering... Dove c'è lei che... Mangia... Un pezzo... Di pizza... E il suo compagno... Aspetta... E lei che lo dice... Aspetta... Perché lei deve fare il video... E se lo mangia tutto... Ehm... Godendosi questo pezzo di pizza... Che è molto croccante... Molto crunchy... Fa dei bei suoni... Ma lei... Mangia proprio di gusto... Si vede che ha fame... E mi fa ridere... Allo stesso tempo... Il compagno che sta aspettando... Che deve fare il video... Per mangiare anche lui... Però lei... Lei non importa... Non importa se il compagno sta aspettando... Lei se lo gusta questo pezzo di pizza... Ed è bello... Cioè... C'è il contesto... Non lo so... Che è lì che si gusta questo pezzo di pizza... Con te... Possono anche aspettare gli altri... Non importa... E' momento nostro... Cioè io la vedo così... Poi... Si ho dei problemi mentali... Probabilmente... Però... Mi piace questa cosa... E poi ha dei suoni... E... Lei ha... Fa molti video... Cioè non fa molti video... Ha fatto molti... Ha fatto abbastanza video... Le mangia... E quando le mangia... Vedi proprio che... Mangia di gusto... Un modo di mangiare... Tutto suo... E tutta molto educata... Non sbatte la bocca... Non tiene la bocca aperta... E' tutta molto... Ehm... Raffinata... E... E poi è... E fa comunque... Dei bei suoni... Perché appunto... Non c'è bisogno di sbatte la bocca... Per fare i suoni... Ecco... Anche il signor ASMR... Ha fatto un video... Dove mangia la pizza... Eh... Quella pizza che ha tipo... Bruciato... Faceva dei suoni... Degli suoni... Vecchissimi... Ehm... Però... Non sono... Ce l'ho visto tipo... Due volte... Quello lì... E quindi non l'ho messo... Nella lista di quelli... Perché questi li ho visti... Li avrò visti almeno... 50 volte a video... Ecco... Quindi per questo li ho inseriti... Ehm... Poi... Ehm... Ultimo... No... No... Ultimi due... Ho... Fire Stars ASMR... Allora... Premettendo che... Ehm... I suoi video... Ehm... Di... Pampering... Dove fa le coccole... A... Sua sorella... Il marito... Altri suoi amici... Sono... Tutti molto... Wow... Super rilassanti... Però il mio preferito... E' il video... E' il secondo video... Che porta sul canale con Viola... Perchè ce n'è uno... Ehm... Il primo è quello dove... Viola è straiato... E ha i capelli rosa... Quello... Mi è piaciuto però... Il più bello... Secondo me... E' quando... Ehm... C'è Viola... Con la... Con una canottiera... Grigia e nera... E... E lei... Ehm... Racconta... Come si sono conosciuti... E che è il suo migliore amico... E tante cose... E racconta qualcosa di Viola... E intanto gli fa... Delle carezze... Bello quel video... Quel video... Quel video mi è piaciuto... Cioè tipo il mio preferito... Tant'è che sono anche andata da Viola... Su Instagram... A dire... Bellissimo quel video... Cioè io... Ho sentito l'esigenza di dire a Viola... Bellissimo quel video... Perchè o mi piace tanto... Ehm... A parte che invidio tutti i suoi amici... Che sono lì a... A ricevere queste attenzioni... Queste carezze... Queste co... Queste coccole... Da... Da lei e qua... Chi vorrei... Cioè... Invidia totale... Cioè... Vi invidio troppo... Ehm... Cioè se mi dicesse... Collaboriamo... Se non fossi lontana così... E se collaboriamo... Ti faccio... Sì... Io subito... Io voglio... Fare cento video... Straiata... Seduta... In piedi... Con una gamba alzata... Va bene tutto... Basta... E con i cosi... I capelli sulla faccia... Vabbè... Insomma... Ehm... E quindi... Niente... Quel video lì... È bellissimo... Troppo... C'è un... Quell'atmosfera... Wow... È rilassante... È bello quello che dice... È tutto... Perfetto... Perfetto... Poi... Ehm... Un video che è recente... Che ho scoperto sul canale... Ana ASMR... E vlog ASMR... Ti porto in Toscana... Alle Terme... E... Ehm... Quel video lì... Anche... Mi è piaciuto un sacco... Perché è riuscita a... A fare immagini... Della natura... Dell'acqua... Di un sacco di posti... Ehm... Con anche il suono... Senza però... Essere un suono... Infatti... Che io a volte provo a farli... Ma magari c'è il vinto... Ci sono... Dei suoni esterni... Brutti... Invece quello lì è perfetto... Non so perché lei dica che i suoi audio... Che non è molto abile con gli audio... Ma... Ti stai sottovalutando... Perché quel video per esempio è... Wow... Bellissimo... E... E praticamente... Mi è venuto in mente adesso che ho dimenticato... Un video... Adesso vado a cercare come si chiama... Ma... C'è un'altra persona perché lei ha fatto... E allora mi piacciono anche a volte... I video dove... Ehm... Fanno... Gameplay... C'è uno in particolare di un canale che... Ovviamente... Non... Non esige... Non fa più... Dio... Comunque vabbè... Torniamo al vlog... E' un vlog... Davvero... Super rilassante... Anche se è nuovo... Anche se quel video è nuovo... L'ho visto... Un po' di volte... Perché... Solo quel giorno lì che l'ho pubblicato... L'ho visto tre volte... Quindi... Vabbè... C'è un prezzo... Allora... Il canale si chiama... Ehm... Gilly... ASMR... Prima si chiamava Bad Wolf... Qualcosa... Con dei numeri... Di cui non ricordo... Ovviamente... Non ricordo... Tutti quei numeri... Adesso si chiama... Gilly... ASMR... Eccolo qua... Gilly... Si trova subito... E... Ehm... Il video... Era... Un video... Dove... Adesso non mi ricordo il nome... Vediamo se lo trovo... Dove... Per essere precisa... Era un gameplay... Su... Ehm... Piante contro zombie... Eccolo qua... Gameplay... Plant... Versus... Zombie... Soft Spooky... ASMR Italia... E... C'è appunto... Questa... Ragazza... Con questo accento... Wow... Perché è tipo... Bolognese... Quindi ha un... Suo... Accento... Ficchissimo... Dove... Ehm... Spiega... Come funziona... Il gioco di... Piante... Contro zombie... E... L'inquadratura... È fatto tutto molto... In modo... Molto... Casereggio... Perché... Non fa la registrazione dello schermo... Con... Non so... Ops... Va... Registra tipo... Col tablet... Col telefono... Il tablet... Una cosa del genere... E... Quindi... È un po' tutto accroccato... Si vede un po'... Male... O... Registra... Col tablet... Il... Lo schermo del... Del computer... Una cosa del genere... Nessuno mi ricordo... Perché... Non è che lo dice... Lo fa... Insomma... Lo... Lo intuisci vedendo... E quindi... È... Non lo so... Bello... Casereggio... Molto... Forte... È... Rilassante... Quel video edit... Tra tutti... Il mio preferito... È quello dove... Se mi dici... Di tornare... Torno volentieri... E... Poi... Ultimo canale che nomino... È... Lisa Grant ASMR... Di lei non ho un video... Preferito... Diciamo che... Qualsiasi video... Dove racconta... Eh... Film... O serie tv... Io proprio... Cioè... Sbavo... Da quanto sto rilassata... Eh... Ma anche... Non importa l'argomento... Importa che lei racconti... È molto... Molto brava a raccontare... Eh... Riesce a immaginare tutto... Io spesso mi metto... Queste cuffie qua... Quelle a fascia... E mi metto il tablet lì... E mi metto a fare... Tipo... O coloro... O... Adesso... Principalmente sto... Tentando di finire... Eh... Quella... Creazione... Quei diamantini... Di One Piece... Che non mi manca tantissimo... Però... Eh... Non è che ho sempre tempo... E allora... Quando ho tempo di farlo... Il mio top... Rilassamento è... Ascoltare... Eh... Lisa Grant... ASMR... Che parla... Qualsiasi cosa... Dica... Specialmente... Mi piace... Che lei guarda tutti i film... Tipo anche adesso... L'ultimo... Video che ho visto... Parlava di un film di Natale... Perché lei ha detto che giustamente... Ha voglia di vedere... Questi film leggeri... E le dò ragione... E... E quindi ti racconta dei... Film vecchi... E... Che lei però ha visto di recente... E... Quindi immagini un po'... Poi come te lo racconta lei... Molto brava... Io non vorrei essere... Vorrei davvero essere... Brava tanto... Quando lei ha raccontato le cose... Lei è proprio brava... Proprio brava... 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 Poi parla lentamente... Cosa che io non riesco... Perché... Dopo un po' mi perdo... Ma perché ha i suoni... Che mi mettono l'ansia... La citazione di... Oh no... Devo muovermi... Quindi lei probabilmente... Da quello che ho capito... Le fa di sera... Io con lei... La seguivo ancora... Quando aveva appena aperto... Che aveva quei due microfonini... Che erano binaural... Ed era una cosa... Ascoltarla veramente... Il mio cervello... Si fondeva... Cioè... Veramente... Li metteva qua... Così parla... Così parlava... Così parlava... E raccontava cose... Lei proprio... È quella persona che... Che ascolterei per sempre... Raccontarmi cose... Cioè... Vorrei dire... Sfogati pure con me... Raccontami tutto... Perché io starei così... Con la pavetta... Col cervello fuso... Ad ascoltarla... Cosa che faccio... Quando... Faccio i miei... Diamond painting... L'ascolto... E sto tipo... Tutta rilassata... È bellissimo... Quindi lei... Non è che io torno... Da un video specifico... Lei... Qualsiasi video... Lo prendo a caso... Così faccio... Questo... E son già che mi farà super mega rilassare... E... Quindi... Questi sono i miei video del cuore... Fammi sapere quali sono i tuoi video del cuore... Sempre... Se sei riuscita creatura... Ad arrivare fino a qua... Eh... Io mi impegno a parlare lentamente... Ma... Fallisco in ogni video... Penso di aver fallito... Ma avevo troppe cose da dire adesso... Per andare piano anche... Questa è la mia scusa... Vabbè... E vabbè... Ci proverò anche nei prossimi video... Mi piacerebbe come Lisa Grant... Fare più video parlati... Così dove siamo io e te... E tu... Semplicemente mi ascolti... Magari con... Un trigger... Qualcosa... Eh... Però io preferisco senza trigger... A me piacciono di più... Ascoltare... E basta... E stare lì così... Con il cervello fuso... Ad ascoltare... Quello è il mio... Trigger preferito... Il cervello fuso... Da zero pensieri... Solo pensare a quello che mi... Sta sussurrando... Quella persona... In quel momento... Spero che questo video... Ti sia piaciuto... Eh... Io ti auguro... Buonanotte... Buon relax... Ciao... Creatora...